Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. PNA Edenitz è andata in vacanza con il suo amante Can Yldrm. Sipai, con Can Yldrm e Osje Gurel, è arrivato in finale in anticipo. PNA Edenitz, che ha detto che avrebbe sempre sostenuto i suoi cari, ha portato il suo amante in vacanza morale. Il fatto che PNA fosse in vacanza mentre erano in corso le riprese di Judgment, l'indispensabile serie domenicale, ha spinto Can Urgancolo. Commento di Can Urgancolo a PNA Edenitz, ti aspettiamo sul set. PNA Edenitz, l'attrice protagonista della serie Judgment, trasmessa sugli schermi di Canal D. È innamorato da tempo del suo collega Can Yldrm. Il duo, che ha in mente la loro relazione, è andato di recente in Danimarca per una vacanza. PNA Edenitz, che ha condiviso le sue pose romantiche con il suo amante sul suo account sui social media, non ha esitato a commentare dal suo coprotagonista Can Urgancolo. PNA Edenitz, che ha condiviso i fotogrammi della sua vacanza sul suo account Instagram, che ha 2,7 milioni di follower. Ha aggiunto la nota a Che cosa meravigliosa per salvare i ricordi. Can Urgancolo ha commentato il post dell'attore, che ha ricevuto migliaia di mi piace in poco tempo. Ricordando che le riprese della serie continuano, Urgancolo ha dichiarato, i post sono buoni, ma stiamo aspettando sul set. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e... Non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci. Ciao!